Tutti preoccupati là? Agrigento? Tutti. Aspettano le cene di Pirandello. Piano! Piano! Piano, piano! Slow down! Oh, slow, slow, yes, ok, ok. Slow down. Ok. Non ci possono chiedere di vedere in un vaso greco, con il funerale che attraversa Agrigento. Agrigento a levarsi il cappello davanti a un vaso. Non ci lo possono chiedere. Tagliato, sta ruando. Tagliato, sta ruando. Hai visto? È morto un bambino. Tagliato, 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 tagliato Grazie a tutti.